Circa 300 residenti della gola di Panchisi, 100 chilometri al nord-est di Spilisi, al confine con la Cecenia, si sono radunati domenica 21 aprile vicino al villaggio di Birchiani, in Georgia, per protestare contro la costruzione di una centrale idroelettrica, che potrebbe, secondo loro, danneggiare l'ambiente e costringerli a lasciare le case. Alcuni manifestanti hanno lanciato sassi alla polizia, che ha usato lacrimogeni e proiettili di gomma per fermare le proteste. Diversi residenti e poliziotti che hanno riportato lievi ferite durante gli scontri.